Spazza Quiz Questa domanda vale 2 milioni di euro Simone, per 2 milioni di euro, dove butti una buccia di banana? Me lo diceva sempre mia madre, aspetta Nell'organico Questa domanda vale 3 milioni di euro Simone, per 3 milioni di euro, dove butteresti un cd? Forse nella... nell'indifferenziato E ora la domanda da 4 milioni di euro Ed ora stai attento Simone, questa domanda vale 4 milioni di euro E ti chiedo dove butteresti il cartone del latte? Ma il cartone del latte è pulito o sporco? Il cartone del latte è pulito ovviamente Vabbè, allora vale la carta Nella carta, bravissimo Simone Ed ora la domanda da 5 milioni di euro Ed ora Simone, per 5 milioni di euro, dove butteresti dei tovaglioli di carta sporchi in piccole quantità? Nell'organico E la risposta è... l'organico! E questa è l'ultima domanda, da 10 milioni di euro Ed ora Simone, la domanda è decisiva Se sbagli perdi tutto Attento Per 10 milioni di euro, dove butteresti il cartone unto di pizza? Io ho un presentimento È quello che si ha nell'indifferenziata Però non sono pienamente sicuro Penso che sia nella carta Quindi ci provo Per me è nella carta E allora, per 10 milioni di euro, confermi che va nella carta? Sì, lo confermo Il cartone va nella carta No, Simone Hai sbagliato la risposta La risposta esatta era nell'indifferenziato Mi dispiace Hai perso tutto Vaglio 1 E vengiamo tutti Il rifiuto di qualità arricchisce la tua città Grazie 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 Grazie